E con oggi siamo arrivati agli ultimi tre nemici della preghiera, vediamoli. Uno, non sono degno di te, lo potremmo chiamare. Cioè, è il pensare questo, che vista la mia storia personale, visto il mio vissuto, poiché vivo quella situazione, poiché ho commesso quel peccato, poiché c'è in me quella ferita, quella tenebra, quella paura, quella incoerenza, quella macchia, non mi ritengo all'altezza di accostarmi a Dio. Chi è degno di accostarsi a Dio, chi è degno di pregare? Nessuno. Ma lo diventiamo tutti solo perché Dio ci ama e ci salva. Perché lui che ci ama e ci salva, non siamo noi stessi. Perciò chiunque può pregare, sempre, in qualsiasi situazione si trovi. Anche nel momento in cui puoi aver commesso la cosa peggiore, puoi andare da Dio e Dio ti accoglie. Anzi, ancora di più. Secondo pericolo, ma Dio lo sa già. Cioè, cosa sto a pregare? Cosa sto a perdere tempo a dire al Signore cose che Lui sa già di me e che sa già del mondo o di quelle persone? Attenzione, la preghiera non è un informare Dio di quanto accade alla mia vita o di quanto accade nel mondo. Ma se io prego è per ricordare a me ogni giorno che non sono solo, non sono sola nell'affrontare la vita. La preghiera non è un momento di informazione che faccio a Dio, una specie di, non so, una specie di TG, no? Che così offriamo a Dio. Dio sa già le cose, ma se prego è per ricordarmi che in tutto quello che viviamo e che vediamo di noi, nel mondo e degli altri, non siamo da soli. Lo mettiamo nelle sue mani. Sappiamo di non essere da soli. Terzo nemico, pregare non serve a nulla, visto come va il mondo. Circa dieci anni fa posi questa domanda provocatoria ai bambini durante una messa in oratorio e dissi, ma cosa serve pregare? Tanto il mondo va a rotoli. Se Dio ci fosse farebbe qualcosa. Pregare darebbe dei risultati. Un bambino mi rispose questa cosa qua. Se nessuno più pregasse, il mondo andrebbe ancora peggio. Beh, quel bambino quel giorno ha detto una grandissima verità teologica e spirituale. La preghiera sembra spesso non produrre nulla, ma in realtà è diffondere energia positiva nel mondo. Se nessuno lo facesse, se nessuno pregasse più, saremmo messi ancora peggio. E questo è certo. Ecco perché ad esempio i monaci, i monasteri sono importanti, non sono lì a perdere tempo, non fungono al mondo, ma sono dei luoghi che immettono ossigeno nell'aria, nella storia, nell'umanità. È vero, apparentemente sembrano inutili, ma non è affatto così. Vi cito un paragone che spesso amo usare. Se noi ci mettiamo ad osservare un albero, che cosa vediamo? Nulla. Al massimo che fombra, le foglie che si muovono, qualche foglia che cade. In realtà ogni albero, anche se sembra non fare nulla, sta facendo un lavoro fondamentale per la vita della Terra. Sta trasformandola in idea carbonica, in ossigeno, fondamentale. Senza gli alberi moriremmo, non ci sarebbe vita su questo pianeta. Chi prega, chiunque preghi, è come un albero che spelle ossigeno. Sembra non faccia nulla, ma in realtà sta compiendo un'azione preziosa per la vita di tutti. Buona giornata.